I dati raccolti tra le pagine del decimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana, presentato davanti a una gremita sala nella sede della Presidenza della Regione a Firenze, descrivono un fenomeno in crescita, con 22.437 donne che tra 2009 e 2018 si sono rivolte ai 24 centri antiviolenza, la maggior parte italiane. Le donne uccise in Toscana tra 2006 e 2017 sono state 108 e 2.770 nel 2017 sono stati i bambini vittime di maltrattamenti in famiglia. Il rapporto ci mette in mano dati fondamentali per costruire le nostre politiche, dati che ci danno chiaro che la violenza è una violenza che si consuma soprattutto all'interno delle mura domestiche e che chi fa violenza sono i partner e gli ex partner, soprattutto, e sono soprattutto italiani. Dal 2007 la Toscana si è dotata di una legge per il contrasto alla violenza e sostiene la campagna per promuovere il numero verde nazionale antiviolenza 1522. Bisogna alimentare una cultura del rispetto degli altri, del rispetto delle diversità, del rispetto delle persone in qualunque modo decidano di vivere la loro vita, delle persone di tutti i generi che qualunque scelta facciano, da qualunque paese provengano, qualunque tipo di orientamento religioso o sessuale possano avere. Dal monitoraggio dell'osservatorio regionale sulla violenza di genere è emerso che la rete regionale del Codice Rosa ha registrato tra 2012 e 2018 18.699 accessi, 2.640 dei quali solo per i minori, sempre di più le donne che trovano il coraggio di denunciare. Questi dati provengono dai centri antiviolenza, da tutta la rete territoriale. Quest'anno c'è anche un'indagine particolare svolta dal Lauser sulla violenza alle donne anziane. Un dato questo importante perché in genere le donne anziane che subiscono violenza, ma anche quelle vittime di femminicidio non fanno notizia come le giovanissime.